Giorgio Flamini già assessore alla cultura e delegato al sindaco Benedetti per seguire la candidatura della Basilica di San Salvatore di Spoleto. Sono strafelice, è uno dei più bei giorni di quest'anno per me perché è stato un lavoro di quattro anni, abbiamo fatto un notevole lavoro di squadra e di rete e abbiamo fatto un col lavoro per l'Italia perché la candidatura comunque sosteneva una prima attività proprio di una composizione d'Italia, questo popolo barbaro considerato barbaro che scende l'Italia e crea qui a Spoleto il Dugato di Spoleto. Insieme a noi c'è anche Campello sul Critunno che è patrimonio dell'umanità, insieme alla Lombardia siamo in questo sito seriale quelli che hanno ben due siti ovvero San Salvatore e il Tempietto sul Critunno come per la Lombardia che ha Brescia e Castelseprio e quindi siamo particolarmente ricchi e da oggi Spoleto è più ricca perché è patrimonio dell'Unesco, quindi è veramente una gioia.